Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ad un nuovo video del corso di Microsoft Word. Vediamo come si crea un nuovo documento. Vado ad aprire il programma Microsoft Word, mi ritrovo nella schermata Home, questa è la schermata principale che mi appare all'apertura del programma, e vado a premere su Documento Vuoto. Premo e a questo punto ho un nuovo foglio di lavoro, un nuovo documento, nel mio caso qui c'è scritto Documento 6, perché poco fa ho fatto varie prove, quindi ho aperto e chiuso vari documenti. Nel tuo caso, o anche nel mio, alla prima apertura di Word, il nome del nuovo documento sarà sempre Documento 1. Vuol dire un documento generico che non hai ancora scritto e che non hai ancora salvato. Benissimo, vado ad ingrandire un po' la schermata per gestire al meglio il tutto e quindi vedere bene quello che vado a scrivere e scrivo qualche cosa. Lista, partecipanti, maratona. Due punti, vado a capo col mio tasto invio, premo invio, quindi vado a capo, e scrivo alcuni nominativi. Il solito Mario Rossi, a capo Paolo Bianchi, a capo Giuseppe Verdi. Benissimo. Dopo aver scritto questo elenco, mi accorgo che tutte le volte che sono andato a capo c'è una spaziatura che, secondo i miei gusti, è eccessiva. Siamo andati a capo più di una riga. Avrei voluto che il tutto fosse più ristretto. E devo dire che questa cosa la posso regolare a piacere e lo faremo in uno dei prossimi video. Vediamo cosa possiamo fare adesso che stiamo per iniziare a scrivere il documento per non avere questa cosa. Benissimo. Chiudo tutto, torno sul desktop del mio computer, quindi non salvo, riapro Microsoft Word e mi ritrovo nella schermata di prima. Questa volta qui c'è scritto documento 7, dato che il 6 l'ho chiuso senza salvare e poi ne ho aperto un altro. Potrei nuovamente aprire un documento vuoto, ma avrei sempre lo stesso problema. Posso allora affidarmi ai modelli. Questi sono modelli. Iniziamo a provarlo, poi vediamo bene di cosa si tratta. Utilizzo il modello spaziatura singola. Premo. si apre una schermata descrittiva di questo modello, un documento moderno e semplice con spaziatura singola. Questo documento accessibile è ideale, eccetera, eccetera. Ok, leggo tutto, decido che mi va bene. Premo su Crea. Ed eccoci pronti a scrivere. Torno a scrivere il mio elenco per cui lista, partecipanti, maratona, due punti a capo e questa volta vedo già che il cursore va a capo subito sotto alla riga precedente, per cui Mario Rossi, Paolo Bianchi e Giuseppe Verdi in questo caso vengono scritti uno sotto l'altro. Per cui ho utilizzato un modello di testo già pronto all'interno di Microsoft Word. Approfondiamo il discorso. Torno a chiudere il programma, non salvo e mi ritrovo di nuovo sul desktop. Vado ad aprire Microsoft Word arrivo nuovamente nella schermata principale e vedo che qui ci sono altri modelli. Per cui, a seconda di quello che io voglio scrivere, posso trovare già un'impaginazione pronta. Andiamo a vedere il curriculum grigio-blu, ad esempio. Premo. Di nuovo la schermata descrittiva. Premo. Ed ecco apparire questo modello. Già pronto per essere compilato. Vado a ridurne un po' le dimensioni. Quindi trovo il modello di un curriculum e qui posso andare a scrivere il nome, sempre Mario Rossi, e via via tutto il resto. Magari questo lo unisco e vado a capo. E ingrandendo un po', posso andare poi a completare le ulteriore voci e quindi ottenere un curriculum basato su questo modello. Andiamo a vedere quali altri modelli abbiamo a disposizione, per cui torno a chiudere senza salvare e vado a riaprire Microsoft Word. In questa posizione vediamo allora che ci sono gli altri modelli. Ti faccio notare che l'ultimo modello utilizzato si è affiancato a documento vuoto. Quindi quando noi arriviamo in questa schermata il documento vuoto è sempre il primo. A seguire ci sono i modelli utilizzati più di recente, in questo caso curriculum grigio-blu e prima spaziatura singola vuoto. Vado su altri modelli, vedo che ce ne sono molti altri a disposizione e posso anche cercarne alcuni online. Qui c'è scritto cerca modelli online, per cui vado a scrivere qualcosa, presentazione. Devo scrivere una lettera di presentazione, non ho un'idea sullo stile da utilizzare o su che cosa scrivere. Cerco. Ed ecco che online vengono cercati dei modelli e ora posso andare ad aprire la lettera di presentazione, questa sfere blu si chiama. Premo. Dico crea. E si apre nuovamente il modello che posso andare a compilare e quindi gestire al meglio. Bene. Chiudo tutto per andare ad aprire un documento vuoto. Non salvo. E riapro Word. documento vuoto questa volta. Eccomi qua. Iniziamo ora a scrivere qualcosa e approfittiamone per ripassare un paio di regole di dattilografia in modo che i nostri documenti siano scritti come si deve. Torno ad ingrandire un po' la pagina e vado a copiare del testo. Inizio scrivendo in una foresta. Parto con in e ora devo fare uno spazio. Lo spazio è sempre uno. Tra una parola e l'altra si fa uno spazio solo. A volte può capitare che ce ne sia più di uno ma non è un nostro inserimento. È una conseguenza dell'impaginazione del documento. Per cui, salvo situazioni particolari, tra una parola e l'altra si fa un solo spazio. Per cui, in una, spazio, singolo, foresta, in montagna. E a questo punto voglio inserire una parentesi. Voglio scrivere qualcosa tra parentesi. Ci scriviamo molto alta. Non ha tanto senso ma abbiamo bisogno dell'esempio della parentesi. Ok. La parentesi si stacca dalla parola precedente. Quindi, in una foresta e montagna, spazio, aperta parentesi, e le parentesi non vogliono gli spazi al loro interno. Vogliono gli spazi solo all'esterno. Quindi, l'ho staccata dalla parola montagna ma ora la parola che vado a scrivere qui dentro la scrivo attaccata alla parentesi. Per cui, vado a scrivere molto alta. Il molto, quindi, attaccato alla parentesi. Poi le parole si spaziano tra loro anche all'interno della parentesi. Quindi, molto, spazio, alta. chiusa parentesi senza lo spazio interno. Quindi, la parentesi in chiusura si attacca alla parola che la precede. Ok. Chiusa parentesi, spazio, per cui le parentesi hanno lo spazio all'esterno. E vado a continuare la mia scrittura. Vicino al fiume, virgola. La punteggiatura si attacca sempre alla parola precedente. Per cui, virgola, punto, due punti, punto e virgola e quant'altro, vanno messi sempre attaccati alla parola precedente. Quindi, virgola, spazio e proseguo a scrivere. Abita un orso buono. Punto, attaccato alla parola precedente, spazio, perché dopo la punteggiatura ci va sempre lo spazio. Un errore comune che vedo spesso è un elenco con le virgole e tutte le parole attaccate. dopo la virgola, essendo un segno di punteggiatura, ci va lo spazio. Benissimo. Parto con la maiuscola, ovviamente, non mi ricordo il suo nome e a questo punto mi accorgo, guardando quello che ho scritto, che ho commesso un errore di ortografia. Questa parola sottolineata in rosso serve ad attirare la mia attenzione, a dirmi che probabilmente quella parola è sbagliata. Ce ne occuperemo in seguito degli errori di ortografia, per cui ora lo lascio lì, non vado neanche a correggerlo, avremo occasione, e proseguo nella scrittura. Quindi, non mi ricordo il suo nome. A questo punto sto arrivando alla fine del foglio, sto arrivando a margine. Il foglio finisce qui, ma c'è sempre un margine, questa area grigia è il margine, per cui a un certo punto qui mi troverò ad andare a capo. In dattilografia c'era una regola che ci diceva quando dovevamo andare a capo, non troppo presto e non troppo oltre il margine, perché il documento doveva avere un bel aspetto. Nel computer, nella videoscrittura computer, non abbiamo bisogno di preoccuparci di questo. Provvede lui ad andare a capo quando è ora. Quando una parola non ci sta più in questa posizione, se la parola che andrò a scrivere adesso andrò a scrivere, ma so che tutti lo chiamano, quindi il ma, faccio lo spazio, ci sta, il so non ci starà, probabilmente quindi andrà a capo da solo. In seguito vedremo che potremo anche andare ad inserire la sillabazione, quindi il trattino e gestire alla perfezione il margine. In realtà con la videoscrittura proprio non ce n'è bisogno. La cosa importante che dobbiamo ricordarci noi è che non si va a capo manualmente premendo invio a meno che non sia proprio una cosa voluta. Fine del discorso, punto a capo perché da lì inizia un altro paragrafo. Ma a fine riga va a capo lui, deve andare a capo lui perché in questo modo abbiamo la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità del programma. Se andassi a capo io, oltre a probabilmente commettere un errore diciamo dattilo grafico, mi tolgo anche molte funzioni di Word e quindi molte modalità di sfruttamento del mio test. Per cui faccio finta di niente, non mi preoccupo e vado avanti. Allora, ma so che tutti lo chiamano l'orso dalla pelliccia di tappeto. Quindi, ma so che tutti lo chiamano l'orso dalla pelliccia di tappeto. Quindi il computer è andato a capo da solo, io neanche guardavo e ora sto per scrivere una parola con l'apostrofo. L'orso dalla pelliccia di tappeto. L'apostrofo non vuole gli spazi né prima né dopo. Quindi L'apostrofo si trova nella prima riga accanto allo zero sotto al punto di domanda. È uno dei tasti più cercati insieme al punto esclamativo che lascio a te scoprire sulla tua tastiera. Quindi L'apostrofo orso scritto tutto quanto attaccato. Ecco, l'orso dalla pelliccia di tappeto. Virgola. Spazio e ora sto per scrivere un'altra parola. Questa volta scrivo una parola accentata. Perché? E a questo punto ho bisogno della E accentata. Tutte le vocali hanno un loro tasto apposito con la relativa versione accentata. Per cui ora guardo la mia tastiera e inserisco la E accentata. Eccola qui. la E accentata ha addirittura due tasti perché abbiamo due tipi di accento. Ora quando io farò lo spazio ecco che lo faccio la E accentata è cambiata perché il computer Microsoft Word in questo caso ha attivato una correzione automatica ha visto che ho utilizzato l'accentata sbagliata e ha provveduto lui a correggerla. Anche di questo parleremo in seguito. Per adesso ci interessa sapere che tutte le vocali hanno il tasto con la loro versione accentata la E ne ha addirittura due e che quindi è un errore scrivere la vocale con l'apostrofo. Devo utilizzare l'apposito tasto. C'è una particolarità legata alle maiuscole con apostrofo per il fatto che non abbiamo la versione a tastiera ma anche di questo parleremo a suo tempo. Bene e se con questo video hai imparato qualcosa e ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace premendo sul pollice qui sotto ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella in questo modo sarai avvisato all'uscita dei prossimi video e ora puoi anche abbonarti al nostro canale e vedere sempre qui su YouTube i video della serie speciale riservata agli abbonati. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao!